se le cose martedì andassero male per me continuerei a fare esattamente quello che sto facendo adesso che non è un osso del collo mio io sto bene così il problema è che secondo me rischia l'osso del collo l'Italia se martedì la famosa maggioranza quindi i famosi 161 se non sbaglio non ci dovessero essere che cosa succederà guarda sarà un colpo all'italiani all'Italia perché la Francia l'Inghilterra ma tutti i paesi del mondo ma tutti i paesi del mondo in questo momento stanno andando avanti e noi si aprirà una crisi di governo si perderà tempo e si aprirà qualcosa che io credo aumenterà il solco tra le persone che hanno bisogno e aspettano la politica dei segnali e la politica che dovrebbe darli per questo però stiamo lavorando io sono ottimista da questo punto di vista che prevarrà il buonsenso quindi giletti è chiaro che io ho avuto il coraggio che loro non hanno avuto ma non l'ho fatto per un'esibizione muscolare questo non è wrestling l'ho fatto perché oggettivamente il paese ha bisogno di una scossa vedo che occorra risolvere questa pantomima nel minore tempo possibile quello che noi speriamo quello che il centrodestra lavora per ottenere è che Conte non abbia di nuovo una maggioranza perché questa nazione merita la libertà di scegliersi un governo forte coraggioso e che abbia i numeri e la visione per fare le cose che in italia ci sono da fare disgustato sono disgustato e incazzato perché 60 milioni di italiani hanno problemi di mutuo di salute di scuola di lavoro di bollette di disabilità e noi siamo da dieci giorni incagliati su Conte Renzi di Maio Zingaretti con la regia di Mastella è una roba fuori dal mondo se hanno i numeri li tirino fuori e ricomincino a lavorare se non hanno i numeri si facciano da parte e o si va alle elezioni cosa che in democrazia mi sembra naturale oppure lasciano al centrodestra l'onore e l'onere di farsi carico dei problemi di questo paese Cari telespettatori di Coffee Break bentornati buon avvio di settimana tutto in due giorni oggi e domani tutto in due giorni in due giorni il destino del governo Conte il premier oggi a mezzogiorno alle 12 sarà alla camera per le sue comunicazioni e dopodiché seguirà il voto di fiducia ma è chiaro che la partita più importante si gioca domani a Palazzo Madama in Senato dove dopo l'uscita insomma la decisione dei Renziani di Italia Viva l'attuale maggioranza non avrebbe ancora i numeri sappiamo tutti perfettamente che è stato anche un weekend molto intenso di trattative di negoziati di telefonate quello che si sa è che il presidente del consiglio farà appello certamente rispetto agli indecisi o ai senatori perché appunto la partita importante è quella di domani farà appello alla responsabilità e all'europeismo c'è poi la partita decisiva tra quella che era la maggioranza di governo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno chiuso almeno stando alle dichiarazioni ufficiali definitivamente le porte a un ritorno in maggioranza di Italia Viva Zingaretti ha ripetuto che Renzi ha fatto un grandissimo errore la porta è aperta soltanto a chi vuole dare una speranza al Paese e a chi voterà la fiducia a questo governo Di Maio oggi in un'intervista dice che votare nel bel mezzo di una pandemia sarebbe una follia e però meglio il voto anticipato all'ipotesi di governicchi o di governissimi C'è poi l'opposizione che ovviamente sta a guardare che potrebbe presentare una risoluzione unitaria contro il governo Questo è il quadro politico, poi c'è tutta la partita, questa altrettanto importante che riguarda il rientro a scuola Oggi circa 650.000 studenti delle scuole superiori tornano in presenza, in classe Ieri c'è stato il via libera definitivo del Comitato Tecnico Scientifico che ha detto certo, bisogna che i ragazzi tornino in aula al 50% fino al 75% in presenza e c'è stato anche un avvertimento ai presidenti di regione, quelli un po' riluttanti Insomma si assumono le proprie responsabilità nel momento in cui decidono di rimandare o di rinviare questo rientro I presidi sono soddisfatti però anche loro sono molto preoccupati per l'organizzazione del trasporto pubblico Oggi sono previste manifestazioni e iniziative a Roma, in altre città, da parte degli studenti anche da parte di quegli studenti che dicono tornare a scuola in queste condizioni è imprudente Bentornata Annalisa Chirico, giornalista e a capo del suo sito, la Chirico Saluto e bentornata a Daniela Preziosi di domani Ciao Daniela Buongiorno Buongiorno e bentornato a Massimo De Manzoni con direttore della Verità Ciao Massimo Buongiorno Allora permettetemi, adesso sciorineremo tutto quello che riguarda la crisi politica, gli scenari, quello che può succedere e non succedere però voglio andare subito da Lavinia Bruno che oggi è al liceo Mamiani di Roma che è uno dei licei più antichi della capitale Allora Lavinia, vediamo un po' come ci si prepara a questo rientro come ci si sta preparando intanto ti vedo in compagnia di alcuni ospiti prego Esatto Andrea, buongiorno a tutti avrai qui uno spaccato di quello che è il primo giorno di scuola diciamo dopo questi mesi siamo quasi ai 100 giorni ho qui con me la preside che è la dottoressa Tiziana Sallusti oggi si riparte con tante preoccupazioni con ovviamente l'incognita dei ragazzi che continuano la protesta oggi è il terzo lunedì di seguito faranno un corteo per la città e quindi poi parleremo anche con loro vi ho portato gli studenti, la preside, il presidente del consiglio d'istituto che è anche ovviamente genitore quindi tante sono le preoccupazioni ma si riparte preside, è così? Si riparte, sono giorni che organizziamo la ripresa degli studenti oggi saranno al 50% come pensiamo di rimanere almeno per due settimane abbiamo riformulato completamente l'orario i ragazzi oggi vengono a scuola con un orario completamente diverso al 50% vuol dire 600 studenti suddivisi il 60% alle 8 il 40% alle 10 stanno per entrare i ragazzi sono molto preoccupati perché è un cambio per la loro vita anche i genitori lo sono siamo tutti un po' preoccupati del contagio ma noi abbiamo messo in moto tutte quelle misure che ci sono state richieste per cercare di evitare problematiche insomma per la salute pubblica il presidente Zingaretti ha detto che i rischi ci sono però lui non è tra i governatori disobbedienti nel senso che lui ha aperto le scuole ecco, secondo lei questi rischi potranno come temono i ragazzi del resto chiudere, far chiudere di nuovo? e lei ha detto prima mi diceva che al 75% di apertura non arriverete mai questo è noi non arriveremo per una questione logistica non perché non vogliamo arrivarci abbiamo una scuola in cui ci sono delle aule grandi dove i ragazzi entreranno tutti cioè noi lavoreremo per classe ci saranno dei giorni in cui verrà una classe dei giorni in cui verrà l'altra classe quindi potremmo forse arrivare al 60% ma non di più abbiamo poi delle aule dove gli insegnanti fanno la DAD per i ragazzi che sono diciamo a casa quindi faremo un'organizzazione misurata anche perché gli spazi comuni i servizi igienici devono essere comunque in sicurezza posso? posso? la vidia? scusami la vidia la vidia la vidia ci devo andare in pubblicità e tassativa ci ricolleghiamo tra pochissimo questo era un antipasto anche perché poi la domanda che farò alla preside anzi alla direttrice didattica come si dice adesso è ma quanto impazzimento c'è stato a poter mettere in atto tutte queste misure questi turni queste nuove modalità perché poi le notizie sono state come sapete continue frammentare insomma il puzzle scuola è molto complicato da comprendere e da mettere in atto ci vediamo tra poco vado subito in pubblicità e ci ritroviamo subito per parlare di crisi politica quella è tutta lì a tra poco allora crisi politica Alisa Chirico qual è la tua fotografia proprio di queste ore perché qui ogni minuto è prezioso soprattutto per il governo per la maggioranza che deve cercare una forza o singoli senatori perché insomma lo sanno tutti la situazione più complicata è proprio al senato per sostituire Renzi e Renziani ma mi sembra che si usi a sproposito la parola responsabili la responsabilità è un valore serio è una cosa importante mi sembra che siamo all'ennesima una scena già vista questa raccolta questo tentativo di reclutamento di anime perse in Parlamento che hanno un unico obiettivo un unico interesse cioè essere rielette e quindi evitare il più possibile il voto anticipato la domanda qual è fra poche ore parlerà mezzogiorno il premier alla Camera domani al Senato per la fiducia basta la maggioranza semplice ma per governare è sufficiente si può davvero governare con uno scranno in più sul voto appesi a questo a quel senatore quando il paese ha ad affrontare una fase come quella che stiamo vivendo la più grave recessione economica dal secondo dopoguerra ci sono da amministrare le risorse del recovery fan se riusciremo mai ad ottenerle a presentare un piano accettato dalla Commissione Europea una serie di partite importanti per cui mentre migliaia di famiglie Andrea non sanno se potranno riaprire il ristorante se avranno il ristoro e quando lo avranno se potranno mandare i figli a scuola in questa fase noi abbiamo un governo ballerino e il premier Conte che cercherà vedremo con quale risultato il rischio qual è? ripeto un governo che non è capace di governare che non ha in numeri la stabilità per governare e allora a questo punto la seconda domanda è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si assumerà la responsabilità di lasciare diciamo che davvero i giochi di palazzo e i numerini risicati del Senato possano giustificare la prosecuzione di un governo che rischia di diventare un'agonia? eh questa è una bella domanda la giro ecco questo è il titolo di libero insomma molto esplicito dedicato indirizzato a Mattarella giro la tua domanda Daniela Preziosi aggiungendo una cosa oggi c'è una intervista che va un po' nella direzione che dicevi tu c'è un'intervista mi pare sul Corriere della Sera a Luigi Di Maio al Ministro degli Esteri che ovviamente ribadisce che il Movimento 5 Stelle fa quadrato intorno al Premier Conte e a proposito dei numeri lui dice una cosa dice la maggioranza assoluta ovviamente il riferimento è sempre al Senato c'è quel famoso quota 161 dice serve soltanto per alcune cose ad esempio lo scostamento di bilancio e poco altro e quando servirà dice Di Maio noi questa maggioranza assoluta l'avremo insomma l'idea che si ha è che intanto al Governo serve avere un voto in più dell'opposizione sia alla Camera che al Senato la metto così poi strada facendo magari anche il lavoro di convincimento verso parlamentari no? magari di area centrista di area liberale insomma va avanti e li avremo allora Daniela siccome tu firmi oggi un pezzo lo vediamo sul domani che è al titolo abbastanza eloquente il titolo lì la fiducia non è tutto a Conte serve una quarta forza è molto a che fare con questo discorso che fa Di Maio o no? Beh insomma intanto Di Maio naturalmente è abbastanza preoccupato di una cosa che potrebbe succedere e che io non credo che succederà ma che potrebbe succedere e cioè che il Presidente del Consiglio comincia a costruire una sua forza autonoma e che evidentemente andrà a fare concorrenza ai Cinque Stelle quindi questo la preoccupazione di Di Maio è piuttosto forte e non ha a che vedere solamente per le nobili scusami si farà concorrenza ai Cinque Stelle forse anche al Partito Democratico o no? Sì diciamo non nella stessa misura ovviamente perché essendo Conte di fatto considerato il leader dei Cinque Stelle è chiaro che si porterà via probabilmente qualcuno di quelli che nel centro-sinistra diciamo così si sono fatti affascinati da Conte ma sicuramente si porterà via molti elettori e anche forse gruppi dirigenti dei Cinque Stelle quindi mi pare il problema più grosso ce l'hanno loro però al di là di questo sai bisogna capire quando si sostiene che un parlamentare a me non piace questo spettacolo naturalmente non mi piace soprattutto perché non si svolge sotto oggi vedremo cosa comincia a fare il Parlamento ma non si svolge lo spettacolo diciamo del come mai ci sono dei responsabili dei costruttori delle persone che si sono ravvedute che adesso vogliono avvicinarsi al governo bisognerebbe capirne le ragioni quando si sostiene che il parlamentare non ha vincolo di mandato e risponde a se stesso e alla nazione soprattutto chi l'ha eletto e poi non è che si può uno si può troppo lamentare se poi cambia idea lo dicevamo contro i Cinque Stelle lo dobbiamo dire ancora adesso bisogna capire qual è la questione la posta politica ecco io credo che serva a Conte avere una forza politica serva soprattutto le altre un'altra forza politica soprattutto le altre forze della maggioranza altrimenti Conte sarà fortissimo io penso che i numeri ci saranno non servono appunto come dicevate 161 come dicevi tu Andrea anche perché poi tra l'altro Renzi ha fatto questa strana crisi per cui ha assicurato che in tutti i voti importanti darà il suo appoggio quindi è quasi diciamo la possibilità Conte di andare avanti senza 161 voti fissi ma annetto di sorprese perché Conte abbiamo imparato a essere a capire che è sorprendente quindi il tema è che abbia un'area una forza in trasparenza con cui diciamo trattare un nuovo programma politico un programma politico altrimenti finirebbe per essere un presidente del Consiglio che ha i suoi tre partiti diciamo di maggioranza e poi una serie di trattative con singoli personaggi insomma tratta il Parlamento un po' come se fosse un grande gruppo misto non è così non è la filosofia del Parlamento non è la filosofia di una Repubblica che si basa tra l'altro il Parlamento è organizzato sui partiti li possiamo chiamare i movimenti Pippo Pluto e Topolino ma sempre i partiti sono quindi questo diciamo è un limite molto grosso è un limite diciamo anche per che vedono bene anche le forze di maggioranza in questo momento allora adesso poi torno a chiederti una cosa che riguarda il Capo dello Stato ma voglio fare un passaggio subito con Massimo De Manzoni vediamo il grande titolo della verità di oggi a proposito di trattative di negoziati le trame di Conte dietro le quinte Giannini che è il direttore della stampa e Sorgi svelano che le manovre per raccattare Volta Gabbana che puntellino il governo sono condotte per conto del premier da ufficiali dei servizi massoni e monsignori ma che prove abbiamo di questo Massimo vabbè bisogna chiederlo a Giannini a Sorgi però mi ha colpito molto ieri che un giornale come la stampa che è un giornale d'establishment quindi non un foglio corsaro e due giornalisti di esperienza di grande esperienza oserei dire e ben addentro ai meccanismi anche di palazzo si sono usciti con una certa sicurezza non c'erano condizionali nei loro pezzi dicendo questa cosa che tra l'altro basa anche su prove logiche se vogliamo dirla dirla così per quanto riguarda i servizi sappiamo che è una delle caselle in campo c'è questa anomalia che si trascina ancora dal primo governo Conte per il quale Conte a tutti i costi ha voluto tenere la delega ai servizi segreti a tutti i costi ha voluto imporre un suo uomo anche scontentando parecchia gerarchia all'interno dei servizi perché Vecchione non aveva tutti i requisiti a giudicare dalle consuetudini per occupare quel posto abbiamo visto come sono state gestite anche alcune situazioni ricordo la visita di bar che hanno malissima anche quella quando venne a un ministro di uno stato estero vennero messi a disposizione i vertici dei servizi appunto cosa che normalmente non si fa pensiamo anche alla liberazione dei pescatori e le modalità ci sono tante cose che portano in quella direzione poi dopo le prove però posso chiederti una cosa e non dovevo fornirle io visto che non sono stato io scusate però voglio chiedere una cosa scusa Daniela non l'ho scritto io ho citato la fonte le fonti sono quelle le fonti sono le fonti uno che ha scritto le fonti bisogna cercarsi io trovo che sia interessante questo discorso io vorrei fare un passo avanti in questo senso le prove io non le ho i sospetti ci sono tu sai ma non hai i sospetti hai scusatemi io non so ripeto posso dire una cosa Massimo ho citato due colleghi che lo hanno scritto nero su bianco questa è una questione io però Massimo vorrei fare un passo avanti in questo senso al di là di questa vicenda le prove non prove vediamo poi come si evolverà la situazione io credo che quello che però stia molto a cuore agli italiani mettiamola così no al di là delle cose che diceva subito in apertura Annalisa Chirico cioè ci sono intere categorie produttive che sono allo stremo c'è una situazione economica complicatissima quello che sta a cuore credo proprio per la massima chiarezza e trasparenza che ci deve essere in questa fase così complicata e che almeno tutto questo sia alla luce del sole probabilmente lo sarà tra oggi e domani perché poi i responsabili i costruttori chiamiamoli come vogliamo dovranno uscire allo scoperto ecco quello che dico servizi segreti o meno l'importante è che tutto questo sia la luce del sole cosa che invece non sta avvenendo non c'è assolutamente nulla di trasparente se le cose preparatorie sono state fatte nell'ombra poi che emerga la luce del sole solo la parte finale non è una garanzia diciamo così la domanda successiva è questa noi adesso stiamo discutendo su quali saranno gli scenari se si riuscirà a convincere un numero sufficiente di parlamentari a sostenere il governo ma mi pare che poi il problema di tutto è che già veniva evidenziato come potrà andare avanti un governo con una maggioranza così risicata io dico una cosa vado oltre no? cioè qui manca un progetto di governo cioè qualcosa da sottoscrivere insieme su tre quattro grandi partite e dire da questo momento su questi argomenti siamo blindati questo è il nostro progetto cioè è questo il problema o no? ma io credo che la rottura che ha voluto Matteo Renzi anche con la sua mossa del cavallo in realtà avesse anche una sostanza politica cioè noi da mesi che vediamo un governo che su tanti dossier cruciali per la ripresa italiana in questa fase non riesce a trovare una quadra non riesce a trovare una chiara direzione di marcia e lo notiamo in maniera plateale con la storia del piano nazionale di ripresa e resilienza che dovremo forse presentare a febbraio alla Commissione Europea fra tante incertezze e tanti ritardi aspettiamo ancora la lista dei commissari ormai da tre mesi commissari che devono sbloccare le opere in Italia c'è il tema degli stori che non arrivano cioè la scuola che doveva riaprire si va avanti con il rinvi cioè il tema è un governo che ha difficoltà a governare per questo io penso che in altri periodi della storia anche recente Andrea siamo stati severissimi io mi ricordo le polemiche sulla compravendita dei senatori quando si paragonava il Parlamento a un suc per questa azione di mercanteggiamento e adesso pare tutto normale che da giorni c'è una trattativa assolutamente segreta all'ombra che serve a racimolare qualche voto che domani dovrebbe dare una parvenza di liceità a questa azione di Conte e alla fiducia al Senato dopodiché ci troveremo con un governo se davvero questo avverrà un governo di minoranza con l'appoggio esterno cioè sulle singole riforme sulle singole azioni il governo dovrà ogni volta trovarsi numeri in Senato ma io ripeto davvero in questa fase della storia italiana il Presidente della Repubblica si assume questa responsabilità io credo che davvero avendo grande enorme fiducia nel Capo dello Stato e che un galantuomo immagino che le nostre preoccupazioni siano anche quelle del Capo dello Stato e che difficilmente darà l'ok a una simile operazione Il Capo dello Stato avevo diciamo il supplemento di domanda Daniela Preziosi ti prego brevemente Daniela cioè il Capo dello Stato e allora cosa pensi che Mattarella farà ovviamente deve prendere atto di quello che succederà oggi intanto e poi domani se la mettiamo su questo piano non c'è molto scampo io penso che il piano più interessante è quello politico per quanto riguarda il Colle ci sono stati diciamo c'è chi dice 13 c'è chi ne trova molti di più governi che hanno governato in questa maniera per cui con meno di 161 voti uno era quello il primo Berlusconi ma ce ne sono moltissimi altri in questi giorni abbiamo fatto la ricerca sugli annali e abbiamo trovato moltissimi precedenti quindi il Capo dello Stato non può che muoversi rispetto ai precedenti e naturalmente la norma costituzionale da questa parte secondo me non andiamo molto lontano se Conte ha sufficiente maggioranza cioè uno più della fiducia la cosa più seria secondo me intanto non è che siamo sempre stati severi con i mercimoni con Berlusconi cioè c'è chi lo è stato e chi non lo è stato per esempio Matteo Salvini che adesso fa un gran casino contro questo cambio eventuale poi vedremo domani chi vota così ai tempi di Berlusconi non era severo ma anzi era nella stessa maggioranza quindi diciamo non ha moltissimo non tutti diciamo hanno tutto poi per carità tutti possono dire tutto la libertà per fortuna innanzitutto il tema è politico il tema è che ci sia un programma un programma che un cittadino può leggere e dire questo governo che è nato in Parlamento come succede nel nostro sistema che è questo che i governi nascono in Parlamento ha un questo programma e può diciamo vedere quello che sta facendo quindi il tema è che dopodiché le trattative precedenti io non minimizzo perché a me non piace per niente questo spettacolo e non mi piace lo spettacolo che sia fatto non so se dai cardinali dai servizi segreti ma da un uomo solo che sta sempre più e sempre più mi pare solo al comando ma non mi piace per niente però voglio dire il tema delle trattative precedenti Massimo adesso noi purtroppo non siamo giovanissimi ma quante volte abbiamo visto cose terrificanti nel dicembre dell'11 vedemmo cose che noi umani che abbiamo raccontato in maniera così per cui adesso siamo arrivati siamo arrivati oggi sì sì beh sì insomma sempre è un'altra fase è un'altra fase è un'altra fase io trovo anche Daniele inquietante perché anche una donna attenta alle libertà io trovo anche inquietante che in questa fase di pandemia un premier che magari non ha neanche la maggioranza assoluta alle camere decide delle nostre libertà personali a colpi di vicende la maggioranza assoluta non gli serve per questo ho capito ma c'è un tema di democrazia sostanziale le regole sono queste le regole sono queste le regole sono sempre non è che ci sono le fasi sì ma c'è anche un tema di democrazia sostanziale certo pubblicità tassativa è sbagliato il DPCM sempre io vorrei dire una cosa sul governo Massimo dopo intanto devo andare in pubblicità è tardissimo saluto ci ha appena raggiunti il direttore Corriere della Sera Luciano Fontana bentornato Luciano sì buongiorno ecco un attimo di pazienza partiamo dopo la pubblicità ripartiamo dobbiamo fare un'altra incursione al liceo Mamiani perché dobbiamo sentire anche a proposito di questo ritorno in classe alle superiori sia i genitori sia gli studenti dando conto che appunto lo dicevamo prima che a Roma ci sono molte proteste oggi e credo che anche a Milano c'è l'ennesima occupazione di un liceo insomma il mondo della scuola è molto effervescente anzi è in ebollizione a tra poco allora prima di tornare a Mamiani voglio andare da Luciano Fontana e chiedo al direttore Corriere della Sera questo alla luce di quello che si dice si scrive si sa alla luce anche insomma di quello che abbiamo detto fino a questo momento ti vorrei fare questa domanda ma la parola d'ordine è governare comunque pur di evitare il ricorso alle urne? sì questa sembra la parola d'ordine che corre in questi momenti nelle aule parlamentari io penso che ci siano due questioni ben distinte che vedo avete già affrontato c'è una questione formale e numerica che dice che se Conte ottiene la maggioranza relativa alla Camera al Senato quindi voti in più rispetto a quelli dell'opposizione può andare avanti però c'è una questione politica molto più robusta noi dobbiamo affrontare un'emergenza sanitaria e un'emergenza economica di proporzioni enormi un governo che perde forza dal punto di vista del sostegno parlamentare che è diviso al suo interno che ha una prospettiva molto fragile può affrontare una situazione di questo genere è in grado di affrontarla quindi la questione non andare a votare è superiore al fatto che potremmo ritrovarci un governo ancora più debole rispetto alle divisioni degli altri mesi questo è l'interrogativo che credo la maggioranza e le forze che lo sostengono dovrebbero porsi in questo momento e l'altra domanda volevo farti nei vari scenari ovviamente dal tuo punto di vista sia il Movimento 5 Stelle sia il PD la dico così ritengono Conte un elemento di equilibrio insostituibile e se si pensasse a un altro nome questo potrebbe cambiare diciamo le questioni in gioco o no? Io penso che all'interno dello stesso perimetro non credo che cambierebbe molto anzi credo che Conte dentro questo perimetro è un punto di equilibrio personalmente penso che siccome ci troviamo in una situazione di emergenza come poche l'Italia ne ha affrontato ci sarebbe stato bisogno o da parte del Premier Conte di un'altra figura più rappresentativa aprire al coinvolgimento dell'opposizione per un governo di ricostruzione che avesse la forza una forza politica superiore per i prossimi due anni si ponesse l'obiettivo di superare la crisi sanitaria la campagna di vaccinazione e di avviare il recovery plan coinvolgendo anche nella squadra il meglio che il Paese può esprimere mi sembra che sia stata fatta una scelta diversa e secondo me è una scelta con un equilibrio molto precario Intanto sentendo le tue parole non so perché mi viene in mente che tutto questo dovrebbe vedere in campo una forte iniziativa lo vogliamo mettere così del capo dello Stato forse e mi viene in mente immediatamente dopo il nome di Mario Draghi Annalisa Chies no? cioè voglio dire Mi sembra che in questi mesi da più parti sia venuto anche dalla classe dirigente del Paese la richiesta appunto di un maggiore coinvolgimento pensiamo agli appelli continui da parte di Confindustria e il presidente Mario Draghi che sicuramente per le competenze per la sua caratura internazionale potrebbe in questo momento dare una mano diciamo al Paese non è mai stato coinvolto ma anche penso ai lavori della commissione Colau che poi sono finiti insomma in quello che sappiamo ma gli stati generali insomma fece molto discutere il mancato invito al presidente Draghi domani proprio sull'achirico.it e sul foglio intervistiamo un altro grande nome della imprenditoria italiana Andrea Illi che pure dice in questo momento servono figure come Mario Draghi però io credo che riprendendo quello che diceva il direttore del Corriere Fontana la parola d'ordine in questo momento per il premier Conte sia piuttosto l'arrocco cioè una chiusura tra i suoi nel suo cenacolo ristretto per cercare di sopravvivere di andare avanti mi chiedo però se questo davvero coincida con il bene del paese perché in un momento in cui abbiamo il piano di ripresa nazionale e di resilienza che deve ancora essere presentato a Bruxelles e abbiamo tutte le questioni che sappiamo da ristoria al resto ecco il rischio è che le incertezze e i ritardi di questo governo proseguano un voto in più domani serve per andare avanti ma un voto in più non basta per governare serve una maggioranza assoluta ultimo punto su cui voglio tornare sarò io Andrea una inguaribile romantica ma continuo a pensare che in un paese normale non si può accettare che un premier che in questa fase governa a colpi di DPCM perché deve anche assumere appunto decisioni tempestive decisioni che però impattano sulla nostra libertà personale a partire dalla libertà addirittura di spostamento io mi rifiuto di pensare che questa cosa possa proseguire con un premier che non ha neanche la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato chiarissimo facciamo così devo sentire adesso di nuovo sia Massimo De Manzoni sia Daniela Preziosi però fatemi fare un'altra incursione perché poi anche loro c'è la scuola aperta quindi hanno da fare torno dalla Vina Bruno Lavinia ecco di sì infatti Andrea vorrei anche trasmetterti un po' delle emozioni perché noi qui abbiamo vissuto in questi minuti l'incontro della Preside con i suoi studenti dopo diciamo un periodo di separazione forzata prolungato sono venuti fuori tanti temi primo fra tutto primo fra tutti quello che questo 50% di presenza non diventi un 50% di apprendimento alla fine dell'anno c'è molta preoccupazione infatti gli studenti che ho qui adesso ti parleranno del messaggio che portano in piazza ma loro sono intenzionati chiaramente a ritornare in classe a studiare il più possibile anche perché loro in particolare quest'anno hanno la maturità ti passo subito Nina perché Nina la chiarezza nei vostri messaggi il messaggio è molto chiaro noi studenti siamo studentesse stiamo qui in piazza per manifestare la nostra frustrazione e la nostra rabbia contro la totale insofferenza da parte delle istituzioni e del governo nei confronti della nostra generazione della scuola degli studenti e delle altre componenti scolastiche e della totale insufficienza dei provvedimenti per garantirci un rientro in sicurezza noi vogliamo tornare a scuola abbiamo bisogno di tornare a scuola in presenza perché la didattica a distanza che è un mezzo emergenziale non è sufficiente a garantirci una formazione adeguata per la nostra persona e per il nostro futuro di conseguenza noi vogliamo assolutamente tornare in presenza e vogliamo che la scuola ritorni una priorità per far sì che ci venga garantito rientro in sicurezza cosa che adesso non sta avvenendo perché l'intervento sui mezzi pubblici non è sufficiente sugli spazi scolastici non è sufficiente e ho paura di dover rientrare in didattica a distanza a breve all'improvviso perché la scuola è la prima cosa che viene sacrificata è la prima cosa che viene chiusa passiamo anche la parola a Michele Michele le tue preoccupazioni abbiamo un po' il quadro generale da Nina di quello che è il motivo per cui voi siete preoccupati te in particolare qual è la tua sensazione come stai vivendo ovviamente sono sentimenti ambivalenti perché se da una parte c'è la speranza e la gioia di poter tornare a scuola nel ricordo di quello che era prima dell'emergenza pandemica dall'altra parte c'è l'insofferenza e comunque la rabbia per sì l'impossibilità di tornare come prima ma anche il fatto che i provvedimenti che potevano essere presi non sono di fatti stati presi e comunque sono stati presi tardivamente con una comunicazione non adatta e sicuramente quelli che ci hanno rimesso sono stati primi gli studenti ma sicuramente professori personaleata presidi tutto il mondo della scuola in generale per quanto riguarda le mie preoccupazioni io quest'anno devo sostenere un esame di maturità che non so come sarà quando sarà e insomma crediamo sarà sulla falsariga dell'anno scorso a questo proposito Michele scusami se ti levo la parola perché Paola Invesi che è il presidente del consiglio d'istituto rappresenta anche è molto importante il tema della maturità Lavinia non ci sente Lavinia dobbiamo un attimo prendere un altro po' di tempo poi torniamo da te tanto già abbiamo ascoltato mi pare con grande attenzione anche quello che dicono gli studenti e i ragazzi sono stati tutti molto chiari poi ci torniamo voglio aggiungere una cosa che il capo del comitato anche perché la signora Invesi no 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 dopo dopo aspetta un attimo anche perché il capo del comitato tecnico scientifico ieri c'è stata una riunione d'urgenza ha detto una cosa si chiama Agostino Miozzo lo conoscete ha detto c'è il rischio nel non far tornare i ragazzi in classe a scuola che un'intera generazione di giovani si affaccerà al mercato del lavoro con un buco di apprendimento e di esperienza devastanti che peserà sul loro futuro e questo è l'altro grande rischio facciamo così allora devo tornare da De Manzoni devo tornare da Daniela Preziosi devo tornare dal direttore del Corriere della Sera però subito sentiamo Paolo sotto corona che in maniera molto sintetica caro Paolo ci sono un sacco di cose dici una cosa perché credo che ci siano temperature sotto la media stagionale o no tutti mi dicono c'è un gran freddo no io amo il freddo per cui non faccio testo allora diamo la misura in questo fine settimana come ci si aspettava c'è stato freddo mediamente circa 4 gradi sotto la media che è abbastanza è molto se volete ma non è moltissimo quindi non c'è niente di siberiano non c'è niente di polare è che le temperature medie rappresentano a volte si sta sopra a volte si sta sotto fatevene una ragione nei prossimi giorni andremo leggermente sopra le medie quindi insomma questo grande freddo chiamiamolo così è già finito allora un po' di nuvole al sud sul versante adriatico poche le piogge guardate nel pomeriggio pomeriggio serata che cosa succede su queste zone migliora al sud sul versante adriatico deboli piogge si affacciano direi quasi soltanto sul Lazio la tendenza la vediamo velocemente nei prossimi due giorni domani sono tutti i versanti tirrenici quelli occidentali della penisola con piogge deboli e spesso localmente isolatamente moderate quindi un tempo leggermente peggiore che si diciamo concretizza anche nella giornata di mercoledì in cui tutto il nord e tutto il centro sud tirrenico quindi la parte occidentale hanno piogge deboli e localmente di una certa consistenza e questo vale per la Campania vale per la Liguria quindi non è proprio maltempo ma qualcosa c'è velocemente perché l'avete già intravista venerdì la foto di Giorgio questa fumata rosa dalla Cima 12 lui è in Trentino ma dietro la Cima 12 c'è Asiago quindi siamo in provincia di Belluno e questa fumata in realtà è neve è sollevata dal vento ovviamente al tramonto quindi prende questo colore rosato che sia di buon auspicio non lo so speriamo grazie immediatamente di pubblicità perché abbiamo un sacco di cose ancora di cui parlare ci vediamo tra poco allora subito torno da Massimo De Manzoni in questo rimpallo tra crisi politica e situazione nelle scuole ci sta molto a cuore questa situazione Massimo passaggino solo sulla scuola la timidezza di questi studenti Daniele prima ricordava la nostra età in effetti qualche anno un bel po' di anni fa in una situazione come questa gli studenti si sarebbero fatti sentire molto 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 di più chiusa parentesi chiusa parentesi no io ho sentito con interesse e condivido praticamente tutto quello che ha detto Annalisa Chirico condivido anche il fatto che sia una posizione romantica perché noi dimentichiamo sempre un piccolo fatto questo governo e questa maggioranza non hanno mai avuto un indirizzo preciso e una coesione non hanno mai avuto a cuore le sorti del paese questo governo e questa maggioranza nascono solamente sulla base di una conservazione di posti di potere ma soprattutto per impedire che si andasse le elezioni e il centrodestra che è maggioranza nel paese potesse governare e soprattutto eleggere il prossimo capo dello Stato queste ragioni rimangono tutte sul tappeto corroborate dal fortissimo vincolo esterno che c'era nel 2000 2019 e che c'è a maggior ragione adesso rappresentato dall'Europa che ha i suoi esponenti le sue diciamo forme di garanzia in Italia nel PD e in qualche forma in Mattarella quindi pensare che questa situazione in questo momento possa cambiare è francamente utopistico quindi un voto in più raccattato in maniera più o meno trasparente meno trasparente va benissimo e andranno avanti così tutto quello che ci diciamo per il bene del paese è ovvio che sarebbe meglio tutt'altro per il bene del paese era talmente evidente che per il bene del paese Conte non andava bene un presidente del consiglio che passa da una maggioranza a una opposta senza neanche fare un passaggino elettorale è uno scandalo assoluto però questa è la situazione che ci troviamo a gestire per cui salvo incidenti ma proprio incidenti nel senso che gli scappa la palla dalle mani e rimbalza troppo lontano per riuscire a raccoglierle in tempo noi ci ritroveremo ad andare avanti così in una pandemia continua che ancora morde sì ma sì ma con queste persone che non sono assolutamente in grado ormai l'hanno dimostrato in un anno di tempo di gestire neanche la pandemia figuriamoci i soldi peraltro continuiamo a parlare solo dei soldi recovery ci sono i fondi strutturali abbiamo ancora 38 miliardi a spendere i fondi strutturali queste persone hanno già maneggiato 100 oltre 110 miliardi di euro per cui sembra che adesso solo i 200 miliardi che arriveranno fra l'altro frazionati siano la cosa importante da gestire ma questi hanno già gestito malissimo 110 miliardi di euro questa è purtroppo la nostra situazione allora voglio chiedere una cosa ancora al direttore Fontana pensi che potrebbe esserci tra già oggi e domani qualche sorpresa qualche colpo di scena oppure oppure no no io non penso che ci saranno dei grandi colpi di scena salvo vedere se il gruppo di Renzi di Italia Viva regge regge o se c'è qualche spostamento qualche ritorno al PD come sta accadendo alla Camera anche al Senato io penso che in questo momento l'obiettivo di Conte dei partiti che lo sostengono sia di superare la prova come dire passare la nottata e poi cercare in futuro di allargare la maggioranza anche in nome di questo famigerato partito di centro di cui Conte dovrebbe essere un po' la calamita e quindi per cercare di allargare in futuro stiamo al gioco al gioco politico se posso dire una cosa rapidissima credo che però anche il centrodestra abbia sbagliato in questa situazione abbia sbagliato ad arroccarsi su una posizione quella torniamo a votare che era chiaramente non attuabile in questo in questo momento avrebbe dovuto fare anche il centrodestra una proposta per il Paese sarebbe stato molto più forte nella discussione nella discussione politica sì a patto poi che appunto fosse coinvolto però anche il centrodestra molto di più certamente certamente non c'è dubbio era il presupposto è certo fatemi salutare Emanuele Mastrangelo che fa il redattore capo a Storia in Rete e ho letto anche che è un cartografo storico politico che ha pubblicato insieme a Enrico Petrucci per Eclettica Edizioni questo libricino ve lo facciamo vedere Iconoclastia la pazzia contagiosa della cancel culture che sta distruggendo la nostra storia insomma tanto per capirci i simboli le statue ci vengono in mente quelle di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti ma anche chi in Italia ha imbrattato con la vernice la statua di Montanelli insomma c'è un movimento che tende a rimuovere le testimonianze importanti poi discusse o meno del passato no? Mastrangelo Sì è un movimento sempre più transnazionale è iniziato in Spagna all'inizio del millennio si è rapidamente esteso agli Stati Uniti e adesso di ritorno sta purtroppo minacciando anche l'Italia che è la grossa preda perché noi abbiamo la più grande riserva di opere d'arte dall'antichità a oggi quindi chi vuole distruggere le opere d'arte qui in Italia sarebbe come una faina in un pollaio ma che cos'è dal suo punto di vista che cos'è è la deriva del politicamente corretto non so la definisco così che cos'è assolutamente sì è che nasce la deriva del politico che nasce nasce negli Stati Uniti nasce dunque la nascita noi la facciamo risalire al momento in cui i partiti di sinistra soprattutto con la sinistra zapateriana in Spagna fanno la loro mutazione antropologica che da partiti di tipo operaio diventano partiti di tipo sui nuovi diritti e non avendo nulla a questo punto per differenziarsi in maniera eccessiva dal centrodestra perché poi sostanzialmente diventano partiti liberisti iniziano la loro narrazione sulla necessità di distruggere il passato in Spagna lo fanno con il passato franchista che era un passato con cui si conviveva benissimo da 30 anni e negli Stati Uniti lo fanno con il passato suddista però anche per esempio con tutta l'epos della conquista del del Go West si parte addirittura da Cristoforo Colombo e adesso negli Stati Uniti stanno mettendo in discussione perfino i padri della patria quindi George Washington il Hamilton che è l'uomo che ha scritto l'inno nazionale degli Stati Uniti vengono messi in discussione e si vuole abbattere i loro monumenti e si vuole addirittura ricostruire e riscrivere la storia in una maniera che è quasi orwelliana perché si cerca addirittura per esempio c'è stato in America il tentativo di far partire la storia degli Stati Uniti non dalla dichiarazione di indipendenza ma dall'arrivo della prima nave negriera con gli schiavi neri sulle coste della Virginia quindi c'è tutto un tentativo che è oggettivamente orwelliano e purtroppo sta arrivando anche in Italia sta arrivando anche in Italia registriamo questo segno dei tempi Daniela non so se volevi dire due cose anche su questo insomma no non voglio dire niente su questo perché è tipico del metodo storico quello della revisione continua quindi non è che si può dire che non si fa bisogna farlo bene storicamente con gli storici ed è importante questo invece che si riguardi sempre il passato è un gesto di grande intelligenza poi buttare giù le statue dipende diciamo dipende dalle situazioni ci sono stati popoli che hanno tirato giù le statue perché ce l'avevano con le loro dittature e io francamente non mi sento di fare questa discussione però vorrei parlare piuttosto di no scusa mi sembra che ci abbiamo poco tempo prego esatto volevo dire proprio per andare veloce volevo parlare di cose che si possono fare in questa legislatura e cose che non si possono fare per cui io smetterei di parlare francamente di Draghi perché i nostri commentatori e cronisti più autorevoli li sanno per averlo sentito dalle sue stesse parole che Draghi non è interessato neanche di essere tirato in questa cosa ma non è interessato proprio a questa cosa se ne ricordino magari se in Parlamento c'è una maggioranza per Draghi se ne ricordino al giro che tra un po' c'è un'elezione molto importante e anziché promettere di fare di indicare Silvio Berlusconi come mi pare stia facendo in questi giorni di trattative anche a destra il centro-destra magari si ricordino se gli piace tanto di indicare Draghi se pensano che Draghi sia l'uomo della providenza io naturalmente non posso che stimare una personalità importante come l'ex presidente della BCE però volevo dire non tiriamole in questa cosa perché lui è il primo che non vuole essere tirato lì dentro per quanto riguarda il resto insomma io non riuscirei faccio fatica a sentire parlare di Volta Gabbana perché intanto naturalmente dal punto di vista gli spettacoli non sono belli ma questi sono governi questa è una legislatura nata con i 5 stelle che stavano con la Lega si sono messi insieme con la Lega ora è punto non c'è bisogno che ricordo quello che si sono detti e poi rinata questa legislatura con i 5 stelle con il PD quindi diciamo che qui la questione era questa peraltro ricordando che il Parlamento non rappresenta più quello che adesso è il sentire degli italiani la Costituzione dice che finché c'è la maggioranza non si va a casa al direttore Fontana io sono particolarmente d'accordo con l'ultima cosa che diceva adesso per carità la destra ma il tema è che il governo istituzionale comunque di responsabilità più ampia non si può fare perché qui abbiamo una destra che in Europa a Bruxelles vota sistematicamente tutti gli atti che sono contro il recovery fund quindi evidentemente il tema è che non si può diciamo se vogliamo mantenere questo percorso di aiuti europei la destra che noi abbiamo la destra radicale leghista e di fatale Italia che noi abbiamo in Italia non fa questo percorso quindi è difficile metterla insieme con le altre e Silvio Berlusconi che invece forse Italia che hanno una idea di tutt'altro genere europeista ha deciso di rimanere con quella sua il tema era bloccato molto da quella parte più che da quest'altra perché mi pare che i 5 Stelle ormai accetterebbero la qualsiasi la qualsiasi senti fammi andare un attimo al volo Lavinia un minuto credo è un rappresentante dei genitori l'idate al Mamiani prego non solo rappresenta i genitori ma è soprattutto il presidente del consiglio d'istituto quindi una duplice veste anche di politica dal basso molto attenta tra l'altro mi diceva tra pochi giorni ci sono gli scrutini quindi la pagella del primo trimestre che sarà di rimente ma l'obiettivo della maturità insomma tanti traguardi da raggiungere e il tentativo di arginare le strumentalizzazioni che danneggiano la scuola soprattutto quello credo che adesso sia il momento e lo dico come rappresentante come presidente del consiglio d'istituto di mettere da parte qualsiasi tipo di strumentalizzazione e di ragionare anche su scenari che siano di medio lungo periodo noi come presidente di consiglio d'istituto siamo riuniti in un coordinamento regionale che in questo momento si sta muovendo proprio sia da un punto di vista emergenziale quindi cercando di affrontare le problematiche del ritorno a scuola nell'immediato ma soprattutto in una prospettiva di più lungo termine cercando di ragionare anche come e in che forma concludere l'anno quindi anche dando una diciamo facendo un focus su quelle che saranno le tematiche legate all'esame di maturità che questi ragazzi soprattutto quelli dell'ultimo anno dovranno andare ad affrontare in un momento in cui loro hanno bisogno di certezze soprattutto quest'anno perché vengono da due anni molto faticosi in cui il quadro è stato fra i più incerti possibili sia da un punto di vista didattico che da un punto di vista di colloquio e quindi di socializzazione nella scuola che da un punto di vista di prospettive anche per il futuro anno grazie grazie vi devo stoppare Lavinia grazie ringrazio al nostro nome studenti genitori insegnanti tutto il personale scolastico dobbiamo chiudere un tweet finale ad Annalisa Chirico insomma un governo dei migliori dei più capaci dei più competenti non mi pare sia alle viste insomma draghi o non draghi la cosa migliore sarebbe un governo votato dagli italiani quindi un governo disegnato dal voto però che chiuderei con l'appello proprio del presidente Draghi quando ha detto facciamo debito buono non debito cattivo e col rischio che facciamo soltanto debito cattivo spese improduttive e non investimenti di lungo periodo di lungo respiro buongiorno Mirta scusami ma va bene lasciamo stare eccomi qua buongiorno ben trovati buon lunedì questa è una giornata molto importante lo sapete bene lo sappiamo bene siamo in attesa del premio e del suo discorso alla camera ve lo faremo ascoltare in diretta questa mattina ma ci sono anche molti ospiti con noi perché aspetteremo il momento cruciale con Alessandro Sallusti Peter Gomez Carlo Calenda Gianni Cuperlo perché naturalmente ci sono moltissime cose accadute questo weekend in questa domenica bestiale in cui molti hanno dichiarato e molti hanno lavorato sotto traccia collegamenti con i palazzi con molti responsabili vedremo a conoscere alcuni non da poco stamattina e ancora Federico Geremicca di non giarrusto Francesco Borgonovo Antonio Padellaro e poi la camera ci siamo grazie grazie Mirta allora io ringrazio Annalisa Chirico Daniela Preziosi Massimo Devanzoni il direttore Fontana Emanuele Mastrangelo domani speciale del Tg per l'intera mattinata ci vediamo mercoledì